L'attaccante è una casella che in questo momento dipenderà molto. Noi non siamo in una situazione di fare la lista della spesa. Noi probabilmente pochissime squadre possono permetterselo. Tutte le altre... Tutte le volte devi viaggiare un po' a vista in base a quelle che sono le opportunità che possono nascere nel mercato o con squadre di riferimento e su quelle poi ti muovi. In questo penso che l'abbiamo già detto, perché se no si pensa sempre a prendere chi vuoi. Non è proprio così, ma penso che non sia così per quasi nessuno.